Alternanza scuola lavoro, triennio finale delle scuole superiori, c'è stato un po' un tirammolla su questa faccenda, con la legge 107 erano state raddoppiate le ore del triennio. Ultimamente è stata fatta una modifica e quindi di nuovo dimezzate, è stata cambiata anche il nome dell'alternanza, è diventato più complesso, però di fatto oggi moltissimi ragazzi si ritrovano a fare degli stage che non hanno nulla a che vedere con il loro piano di studi e soprattutto a discapito anche delle ore curricolari. Ecco, cosa avete intenzione di fare sull'alternanza? Cioè anche chi ci ha chiesto aboliamola, non rendiamola più obbligatoria? Allora, io credo che l'alternanza scuola lavoro se fatta bene sia una grande opportunità, ora si chiama percorsi di orientamento che secondo me è un termine molto più giustificato perché quello che serve è aiutare lo studente a capire come la sua formazione può essere poi utilizzata nel mondo del lavoro, nel mondo aziendale, nel mondo di quello che verrà dopo l'esame di Stato. Questo è importante, non dobbiamo lasciare i ragazzi senza alcun tipo di strumento per governare il proprio futuro, però va fatta bene e va fatta bene significa che non soltanto siano delle aziende gli interlocutori di questi percorsi di orientamento, ma che possono essere realtà della società civile, enti locali ed altro, enti universitari, strutture universitarie, che venga fatta con aziende che hanno anche, con interlocutori che hanno certo pedigree. Io da questo punto di vista per esempio raccolgo le provocazioni, i suggerimenti di molti studenti medi che mi hanno segnalato come purtroppo ancora oggi io non ero a conoscenza, mi ha stupito questa cosa. Alcune delle aziende che fanno alternanza scuola lavoro con le scuole sono aziende dove magari i lavoratori vengono sfruttati o sono aziende del fast food, insomma diciamocelo chiaramente. Non è quello il percorso di orientamento che noi dovremmo agevolare per fare in modo che i nostri studenti che lavorano nella scuola e si formano domani abbiano delle aspettative e delle ambizioni dal punto di vista professionale. E poi a me piacerebbe molto che tutto questo venisse fatto anche con delle modalità interdisciplinari. Per esempio prima di venire in questa intervista io ho avuto una lunga conversazione con un liceo biomedico, dove gli studenti potrebbero utilizzare le risorse dell'alternanza scuola lavoro per esempio per fare quel tipo di formazione che serve per preparare i medici del futuro. In collaborazione con strutture sanitarie, con gli ordini dei medici, con strutture anche con aziende farmaceutiche. Fare in modo che la formazione che avviene a scuola abbia il doppio obiettivo di formare per un determinato sbocco professionale, ma anche di orientare i ragazzi che magari potrebbero avere delle velleità, delle passioni per una disciplina come quella dei medici, che oggi crea un problema enorme, la carenza dei quali crea un problema enorme in Italia, farlo prima ed evitare i colli di bottiglia degli esami, degli accessi programmati, dei numeri chiusi, del test d'entrata e così via. Quindi io avrei un approccio molto laico a questa questione del percorso di orientamento, farlo diventare davvero un'evoluzione e utilizzarlo in modo tale da rafforzare il percorso curricolare, non da aggiungere un'altra cosa che molto spesso rischia di non avere nulla a che fare col percorso curricolare, ma dare al percorso curricolare quella spinta in più che ti può aiutare a capire come quello che stai studiando può diventare uno sbocco professionale, uno sbocco imprenditoriale e farti cominciare a interagire con la comunità di riferimento che di lì a qualche anno dovrai comunque affrontare. Di fatto non avete intenzione di cambiare il monte orario? Sul monte orario che è già stato ridotto, lei l'ha sottolineato, noi terremo il monte orario in questo modo, trasformandone l'obiettivo e quindi l'ambizione finale, ma riteniamo che sia utile anche all'interno di scuole più tecniche, ma anche all'interno delle scuole non tecniche, la possibilità di percorsi di orientamento verso la formazione che siano davvero efficienti.